Buonasera a tutti, saluto il pubblico di Punto Critico Blog per un'altra bella iniziativa di approfondimento e stasera saluto anche il professor Mauro Volpi, professore di diritto costituzionale comparato all'Università di Berugia, saluto il nostro caro umile Daniel fabbricatore del coordinamento per la democrazia costituzionale e vi saluto anch'io, redattore di Punto Critico Blog, sono Mario Monaco. Come avete visto in questa settimana abbiamo fatto diverse iniziative di approfondimento dal processo del giovedì anticipato al mercoledì sulla democrazia, chiedo scusa, sulla vicenda ucraina che è stata un po' negletta in queste settimane per quello che sta succedendo in Palestina. Poi abbiamo fatto una gran bella iniziativa sulla Nadef e quindi su tutto quello che concerne la manovra di bilancio messa in atto da questo governo in sostanziale continuità con le politiche del governo Draghi, con il professor Marcello Spanò, economista critico che ci ha illustrato in maniera molto approfondita le trappole di questa manovra di bilancio. Stasera vogliamo illustrare le criticità politiche e costituzionali, come recita il titolo della nostra iniziativa, della famigerata riforma del governo Draghi, come si è messa in campo dal governo Meloni e come voi sapete ogni governo, chissà per quale motivo, a un certo punto forse perché non riesce a incidere un po' in questo contesto europeo sulle politiche che contano, su quelle economiche, comincia a voler cambiare la costituzione, la forma di governo, è una cosa che va avanti da molti anni e sempre con esiti, devo dire la verità, nefasti. Speriamo che questa volta per i promotori sia la stessa cosa perché veramente è una contro riforma che ha delle criticità notevoli che credo che stasera il nostro caro professore ci illustrerà e invito tutti a seguire questa puntata perché dobbiamo essere consapevoli ed avere gli strumenti per poter incidere e intervenire nella realtà politica e certamente possiamo farlo con la conoscenza di quello che avviene nello specifico. Io passerei subito la parola al professor Mauro Volpi per cominciare la sua illustrazione. Grazie professore. Bene, allora intanto grazie a voi per essere stato invitato. Direi che questo disegno di legge costituzionale che il 15 risulta presentato alla Presidenza del Senato, affirma Meloni e Casellati, quindi disegno di legge governativo, assolutamente governativo, contiene un progetto anomalo, pieno di anomalie e molto pericoloso. Intanto voglio precisare che a differenza di quello che viene sostenuto questo disegno di legge non costituisce affatto l'attuazione del programma elettorale del centro-destra nel quale c'era scritta elezione popolare del Presidente della Repubblica. Ora, gli studenti che frequentano il diritto costituzionale o il diritto costituzionale comparato sanno perfettamente che l'elezione del Presidente del Consiglio o Primo Ministro non è la stessa cosa dell'elezione del Presidente della Repubblica. Sono forme di governo diverse, ben distinte, quindi non c'è nessuna attuazione del programma presentato agli elettori. Ma vediamo quali sono le anomalie. Sono molte. Intanto la stessa elezione popolare del Primo Ministro, chiamiamolo così. Sapete che questa elezione popolare non esiste in nessun sistema democratico del mondo. è esistita per pochi anni in Israele, tra il 1996 e il 2001, ma poi è stata abbandonata perché non funzionava. Non funzionava perché il Primo Ministro eletto dal popolo poi aveva a che fare con un Parlamento che era molto frammentato. Quindi formava dei governi deboli e entrava rapidamente in crisi il governo. Qualche sostenitore di questa riforma dice che c'è di male, è un'originalità italiana, come fu un'originalità francese l'introduzione del semipresidenzialismo nel 1958. Allora qui vorrei precisare che il paragone con la Francia non regge per nulla perché la Costituzione del 1958 fu concepita dai suoi estensioni come una forma di parlamentarismo fortemente razionalizzato e in origine il Presidente non era eletto dal popolo. L'elezione popolare fu introdotta soltanto nel 1962 e nel momento in cui fu introdotta l'elezione popolare era già prevista in altri paesi europei, in Finlandia, in Austria, in Irlanda, in Islanda e poi su questa base Duverset costruì il modellino della forma di governo semipresidenziale. Quindi è un paragone che non regge. Ma la domanda di fondo che occorre porsi è perché le democrazie non prevedono l'elezione popolare del Primo Ministro è una ragione molto semplice. Il Primo Ministro è soltanto, unicamente un uomo di parte. Lui rappresenta una maggioranza politica, mi si potrebbe dire. Anche il Presidente della Repubblica, laddove è eletto, rappresenta una parte politica, una maggioranza. Sì, ma è anche capo dello Stato, è anche rappresentante della nazione e questo in qualche modo riequilibra un po' la sua posizione. Non può non tener conto di questa duplice veste che è chiamato a svolgere. Ma ci sono altre anomalie. Intanto non è assolutamente prevista la maggioranza che dovrebbe leggere questo Presidente del Consiglio. Bene, in tutti gli Stati europei, ben 14, che prevedono l'elezione popolare del Presidente della Repubblica, è previsto che debba avere la maggioranza assoluta dei voti. E nel caso in cui nessuno ce l'abbia, si debba andare a un ballottaggio tra i due più votati. Allora, cosa significa che non è previsto? Che dovrebbe essere prevista la maggioranza in una legge ordinaria. La legge ordinaria potrebbe anche stabilire una maggioranza relativa, inferiore a quella assoluta. Il che vuol dire, considerando il livello raggiunto dall'astenzionismo, che questa potentissima figura potrebbe essere eletta da un numero esiguo di elettori. Altro che più democrazia. Magari il 25, il 30% dei elettori potrebbero decidere chi governa il Paese. Ma c'è di più. Non è previsto nessun limite alla rieleggibilità del Presidente dei Consigli. Ora, in tutti gli Stati a elezione popolare del Presidente della Repubblica, c'è un limite. Negli Stati Uniti c'è il limite dei due mandati, che è un limite assoluto. Introdotto nel 1951, dopo i quattro mandati fatti dal Presidente Roosevelt, hanno fatto un emendamento, il 22esimo, che ha introdotto questo limite. In Francia è stato introdotto nel 2008, non più di due mandati consecutivi. In tutti gli Stati dell'Unione Europea, a elezione popolare del Presidente, c'è il limite dei due mandati, o consecutivi o comunque in assoluto, non più di due mandati. Questo cosa significa? Significa che in teoria c'è la possibilità di una rielezione limitata del Presidente del Consiglio, oppure limitata la legge elettorale potrebbe stabilire un limite, ma quel limite sarebbe modificabile dalla maggioranza politica, perché è stabilito con legge ordinaria e non nella Costituzione. Vi rendete conto? Quindi un Presidente del Consiglio, che ha di nuovo una maggioranza amica e ha fatto due mandati, potrebbe far fare una modifica la legge ordinaria da quella maggioranza per prolungare, per avere, per svolgere un nuovo mandato. Ancora, altra anomalia, è prevista non solo l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e del Parlamento, delle Camere, ma anche congiunta. Sono strettamente connesse le due elezioni, tant'è che la maggioranza, anzi più che assoluta, il 55% dei seggi delle Camere viene dato alle liste e alle coalizioni collegate al Presidente del Consiglio vincente. Tutto questo non esiste negli altri Stati che ho nominato prima. L'elezione qualche volta è contemporanea, ma è sempre separata e quindi la separatezza vuol dire che un'elezione non incide sull'altra e quindi può verificarsi quello che gli americani chiamano il governo diviso e i francesi chiamano coabitazione, cioè due maggioranze diverse, divaricate e questo è uno strumento di forte garanzia. Qui non è così. In più c'è da dire che il premio di maggioranza che ho citato prima, del 55%, non è previsto in nessuna Costituzione democratica del mondo. Qui batte una serie di record di originalità, chiamiamolo così, questo disegno di legge. Non c'è neppure in Grecia, in Grecia è l'unico paese dell'Unione Europea, oltre all'Italia, che prevederebbe il premio di maggioranza. Ricordo anche che ben 16 Stati dell'Unione Europea su 27 nella Costituzione prevedono il principio proporzionalistico, ma nessuno prevede il principio maggioritario, neppure la Costituzione francese, che pratica un sistema maggioritario. Ma soprattutto qui c'è uno schiacciamento del Parlamento sul voto dato al Presidente del Consiglio. È il Presidente del Consiglio che trascina il premio alla maggioranza. Un illustre costituzionalista, Enzo Kelly, ha scritto sulla stampa che c'è un ribaltamento del rapporto governo-parlamento. Non è più il governo che deve avere la fiducia del Parlamento, ma è il Parlamento che deve avere la fiducia del governo, anzi per essere precisi, del capo del governo. Ci sono poi alcune disposizioni ulteriori che io definirei addirittura grottesche e enormemente contraddittorie, anche dal punto di vista di quelli che vogliono l'elezione popolare del Presidente del Consiglio. Intanto è previsto un doppio voto di fiducia iniziale, non ne basta uno. Se il primo va male, la fiducia al governo che è stato formato dal Presidente eletto dal popolo, c'è la prova d'appello, un secondo voto di fiducia. Intanto c'è anomalo il voto di fiducia iniziale, figuriamoci. C'è una maggioranza del 55% che corrisponde al Presidente del Consiglio elettorale del popolo. A che serve il voto di fiducia? È una finzione, è una buffonata. E tuttavia, perché ci sono due voti di fiducia? A me è venuto in mente, non credo di essere molto lontano dalla realtà, che insomma qualche parlamentare o qualche settore della maggioranza, non del tutto convinto della composizione del governo, con il primo voto potrebbe mandare un segnale non partecipare al voto o astenersi. Tanto c'è sempre il secondo voto per votare la fiducia e non produrre lo scioglimento automatico del Parlamento e delle Camere. Questo aiuta la formazione del governo, la stabilità non credo proprio. Ma c'è poi quella orribile norma antiribaltone, così viene definita, che è basata intanto su un presupposto molto generico. Quando venga meno il Presidente del Consiglio elettore al popolo, allora il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico o allo stesso Presidente che è dimissionario, oppure a un sostituto, a un parlamentare qualsiasi che lo sostituisce. Intanto qui che cosa accade se il Presidente del Consiglio elettore al popolo muore o ha un impedimento permanente? Ah, saperlo non è assolutamente chiaro. Forse allora è obbligatorio il sostituto a quel punto. Benissimo. Intanto tenete conto che se dovesse conferire di nuovo l'incarico al Presidente di Missionario, che è in buona salute, sarebbe uno schiaffo dato al Parlamento, perché il presupposto può essere che una delle due Camere abbiano votato una mozione di sfiducia. La maggioranza sfiducia al Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, può conferire di nuovo l'incarico al Presidente del Consiglio sfiduciato fuori del mondo. Ma in più parliamo di questo sostituto. Qui la norma antiribaltone in realtà non ripropone quella che era contenuta nella riforma Berlusconi del 2005, perché lì addirittura si prevedeva che potessero votare il sostituto, il nuovo governo, solo i parlamentari che a suo tempo avevano dato la fiducia al Presidente del Consiglio uscente, sostituito. E questo era palesemente incostituzionale. Leopoldo Elia scrisse che contrastava con principi supremi l'eguaglianza del voto dei parlamentari, il divieto del mandato imperativo e quindi non l'hanno riproposto alla fine. In una bossa che era circolata prima c'era invece questa previsione. Ma questo che significa che non è stato riproposto? Che c'è la possibilità di cambi di maggioranza, di uscite di parlamentari e di ingresso di altri parlamentari. E naturalmente questi dicono che c'è un presupposto rigido che è il rispetto dell'indirizzo politico e degli impegni programmatici originari. Figuriamoci, sapete tutti benissimo che il programma cambia nel corso della legislatura, cambia anche molto rapidamente. Il governo Meloni mi pare che ne sia una testimonianza vivente. Pensiamo alla legge Fornero, la liquidazione della legge Fornero, alle accise, alla politica estera ed europea. Diceva bene prima Monaco, vi è una sostanziale continuità col governo Draghi. Era stato promesso esattamente il contrario. E quindi c'è la possibilità che in definitiva tutto questo sia utilizzato da una componente della maggioranza per sostituire il Presidente del Consiglio di un altro partito eletto dal popolo, insomma come se fosse una sorta di patto della staffetta interna alla maggioranza. E tutti sanno che questa norma antiribaltone è stata, a nome e cognome, è stata voluta dalla Lega, che evidentemente non si fida troppo dell'attuale Presidente del Consiglio. Quindi vuole avere la possibilità in futuro eventualmente di sostituirlo. In più non si considera il fatto che i sistemi elettorali con premio di maggioranza, e ne abbiamo avuti in Italia, soprattutto il Porcellum è stato l'esempio più evidente, poi si è tentato con l'italicum di Renzi, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, in realtà ha prodotto maggioranze eterogenee, buone come si dice per vincere le elezioni ma non per governare, perché quando vanno al governo cominciano a emergere le divisioni. Ma veniamo ai pericoli. Finora ho parlato delle anomalie che non sono poche, ma vediamo i pericoli, che sono ancora più gravi delle anomalie. Intanto c'è un netto squilibrio tra i poteri, si produrrebbe un netto squilibrio tra i poteri costituzionali. Io trovo veramente incredibile che alcuni sostenitori di questo premierato elettivo sostengono che i poteri del Presidente della Repubblica rimangano intatti. non ci prendete in giro. Come si fa a dire questo? Conferisce l'incarico al Presidente del Consiglio elettore al popolo o al suo sostituto e quindi non lo nomina. Il conferimento dell'incarico è un atto dovuto. Il Presidente della Repubblica non ha nessuna possibilità di scelta e tutti gli altri poteri del Presidente saranno condizionati dalla sua più limitata legittimazione in quanto eletto dal Parlamento rispetto a quella del Presidente del Consiglio che è eletto dal popolo. Giuliano Amato su Repubblica ha scritto che il Presidente diventerebbe un palloncino sgonfiato e quindi questo inciderebbe su tutti gli altri suoi poteri. La nomina dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Credete che il Presidente della Repubblica possa dire no a un ministro nominato dal Presidente del Consiglio elettore al popolo? Può opporsi non autorizzare la presentazione di un disegno di legge governativo al Parlamento? Quali margini ha per esercitare la cosiddetta moral suasion, l'attività di persuasione, di consiglio nei confronti del governo? Il Presidente del Consiglio può sempre rispondere, lasciami lavorare, io sono eletto dal popolo, tu no e quindi lasciami lavorare. E poi lo scioglimento del Parlamento. Qui è scritto in ben due norme diverse che il Presidente della Repubblica in certi casi procede allo scioglimento del Parlamento, procede indicativo presente a valore imperativo, non è che decretano, procede allo scioglimento se non c'è la fiducia iniziale e se non c'è anche nei confronti del sostituto e in tutti i casi in cui il sostituto viene meno dalla carica. E qui c'è un'anomalia ancora che mi ero dimenticato di dire prima, paradossalmente il sostituto è più che non è eletto dal popolo, è più blindato nella carica del Presidente eletto dal popolo che può essere sostituito. Vi rendete conto? Una presa in giro degli elettori, si promette, voi eleggete il capo del governo e poi ci può essere un sostituto che veramente diventa insostituibile. In più il Presidente della Repubblica perde sicuramente una prerogativa, un suo potere personale che è quello di nominare i senatori a vita. Lì il Presidente fa una sua scelta personale. La controfirma è un atto dovuto praticamente alla parte del Presidente del Consiglio. Lo perde completamente, ma su questo farò un cenno anche dopo. E in che condizioni si trova il Parlamento? Il Parlamento viene a essere definitivamente affossato. È succube fin dal momento genetico, perché la maggioranza è costruita sul voto dato al Presidente del Consiglio. Non investe in realtà il governo. La fiducia iniziale l'ho definita prima una buffonata e quindi questa non è sicuramente una variante della forma di governo parlamentare, altra che continuità con le tradizioni parlamentari, come scrivono i presentatori della proposta. Il governo nasce dal popolo e non dal voto popolare e non dal Parlamento. Lo scioglimento è automatico in caso di mancata fiducia iniziale o in tutti gli altri casi in cui viene meno il sostituto. Un Parlamento che conterà sempre di molto meno. Eppure il problema centrale che un bravo riformatore dovrebbe porsi è quello della rappresentanza. Una rappresentanza che ormai si è ridotta a strapuntino del governo. Un governo che si è impadronito della potenza legislativa, che esercita tramite decreti legge. Il governo Meloni più di tutti. Quattro decreti legge al mese e poi a un certo momento della conversione parlamentare fa un maxi emendamento che magari modifica ampiamente in modo anche eterogeneo il contenuto della legge e pone la questione di fiducia in modo che disciplina il voto della maggioranza. E poi di solito in pratica c'è quasi un monocameralismo di fatto perché è una sola Camera che cerca di entrare nel merito. L'altra arriva tardi e si limita a votare quello che ha votato la Camera che è stata investita per prima. L'unica modifica che riguarda la rappresentanza del Parlamento non è ad esempio quello che si potrebbe fare, la limitazione della decretazione di urgenza o una regolamentazione che secondo me dovrebbe essere stabilita a livello costituzionale della questione di fiducia per evitare che sia abusata. No, di questo non si parla minimamente. si introduce invece l'abolizione dei cinque senatori a vita. E qui è curioso il fatto. L'abolizione dei senatori a vita viene giustificata dicendo che in sostanza bisogna rispettare la legittimazione popolare. E questo è particolarmente indispensabile dopo che è stato ridotto il numero dei senatori a duecento. E qui vorrei ricordare che la legge costituzionale numero uno del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari ha previsto che i senatori a vita siano cinque al massimo, non più di cinque. E naturalmente qui quella che doveva essere la funzione essenziale dei senatori a vita per i loro altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, culturale e così via, non viene presa minimamente in considerazione. È vero che non tutti i senatori a vita abbiano sono stati sempre presenti ai lavori parlamentari, ma alcuni lo sono stati. Faccio solo due nomi di senatori a vita in carica. Pensate a Liliana Segre, che è veramente encomiabile e va applaudita. Ma pensate anche alla cattaneo, soprattutto sulle questioni di natura scientifica, quindi il contributo che continua a dare. Ripeto, per il resto non c'è nulla. In sostanza il Parlamento non interessa. Anzi la sensazione è che meno il Parlamento conta, meglio è. Non disturbare il manovratore. Questo potrebbe essere lo slogan. Infine, vi sono alcuni argomenti che vengono avanzati a favore della riforma, che sono sostanzialmente due. Garantirebbe la stabilità del governo per tutta la legislatura. Salvo sostituzione nel corso della legislatura. E poi garantirebbe la partecipazione degli elettori. E anzi sarebbe addirittura più democratico. Un giurista, Frosini, ha scritto che sarebbe un inveramento del principio della sovranità popolare, che evidentemente secondo lui attualmente non è attuato. E allora cerchiamo bene di entrare nel merito di questa questione. Cominciamo dalla stabilità. Intanto quando si fa riferimento alla cosiddetta governabilità, si fa un calcolo puramente matematico. Si dice che ci sono stati 68 governi, durata media 14 mesi. È perfettamente vero. Sono troppi? Sì. Penso che siano troppi. Tuttavia si sottovaluta un aspetto che era verissimo durante la cosiddetta prima repubblica, che era quella della continuità delle formule politiche che erano incentrate fondamentalmente sulla democrazia cristiana, su diversi alleati della democrazia cristiana. E quindi sulla forte continuità, stabilità della classe politica. E infatti i presidenti del consiglio dei ministri sono stati in tutto 31. Durata media mi pare due anni e quattro mesi l'uno, se vogliamo fare il calcolo matematico, che però è sempre sbagliato. Vorrei fare una comparazione con la Francia, il paese preso come modello di stabilità. In Francia sapete quanti primi ministri abbiamo avuto? 25 dal 1958 ad oggi, poco meno che in Italia. E abbiamo avuto 43 governi. Certo mi si dirà, c'è il presidente della Repubblica elettorale, ma che cambia frequentemente il governo, perché insomma qualcuno deve svolgere il ruolo del capo espiatorio nei confronti del corpo elettorale e dell'opinione pubblica, cosa che non fa il presidente della Repubblica, che è quasi intoccabile nel sistema francese. E quindi si sostituisce il primo ministro e quindi si cambia completamente il governo. Certo c'è un problema di stabilità, di efficienza e qui vorrei subito precisare una cosa che secondo me è fondamentale, dovrebbe essere quasi ovvia ma evidentemente non lo è. Se c'è un governo che non agisce bene, che produce danni, quel governo prima va a casa, meglio è. Meglio è per il funzionamento della democrazia e del sistema politico-istituzionale nel suo complesso. Ma l'instabilità non deriva dalla Costituzione, dalle norme costituzionali, ma deriva dalla politica. Questa è la verità. Perché la stabilità può essere garantita solo da maggioranze che condividano principi comuni e con cui arrivino a concordare anche dopo le elezioni, non necessariamente prima, su un programma serio, preciso o addirittura dettagliato come avviene in Germania, dove c'è il contratto di governo che richiede talvolta alcuni mesi prima che si dia vita al nuovo governo dopo le elezioni. In questo disegno di legge ci sono poi delle norme, l'abbiamo visto, che non hanno affatto per scontata la stabilità della formula di governo e neppure la durata della legislatura. E qui è un po' ridicola la provvisione che viene eletto il Presidente del Consiglio che dura in carica cinque anni, punto. Ah sì? E se viene sostituito quanto dura in carica? E se la legislatura viene a essere abbreviata perché il Parlamento viene sciolto automaticamente, come la mettiamo con i cinque anni di durata. Il secondo argomento è ancora meno valido del primo, si garantirebbe la partecipazione. Vorrei quasi lasciar perdere l'affermazione dell'inveramento della sovranità popolare, perché nasconde una concezione della sovranità popolare che da un lato è assoluta, assolutistica e dall'altro invece molto relativa. Da un lato è assoluta perché non tiene conto del fatto che la sovranità popolare nella Costituzione si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è un punto fondamentale perché nella democrazia costituzionale non c'è un potere assoluto del popolo, che poi sarebbe potere assoluto della maggioranza, perché la maggioranza, il popolo, devono rispettare la Costituzione e agire entro le forme e i limiti previsti dalla Costituzione. D'altro lato però la concezione della sovranità è molto relativa, perché si immagina che sostanzialmente la sovranità si inveri ogni cinque anni nel momento dell'elezione popolare del Presidente del Consiglio, perché quella del Parlamento è conseguente, indipendentemente da come votate alla fine, poi conta il voto dato al Presidente che determina la maggioranza del 55% all'interno delle Camere. E quindi in questo modo si crea in realtà un maggiore squilibrio tra i poteri, la subordinazione del Parlamento, ma anche la limitazione della libertà del voto. L'elettore non può distinguere in realtà il suo voto tra quello dato al Presidente e quello magari che voglia dare a una coalizione o a una lista che non sono collegate al Presidente. Esattamente quello che avviene oggi con il Rosatellum. E allora se vogliamo capire quali sono le ragioni vere della crescita dell'astenzionismo che nell'ultima elezione ha raggiunto un livello record superiore al 36% degli elettori. Le ragioni vere sono la crisi della politica, quindi l'incapacità dei partiti di fungere tra l'union, da canale di collegamento tra società e Stato. La crisi della rappresentanza, perché gli elettori non sono ciechi e sordi, si rendono conto del fatto che il Parlamento per il quale sono chiamati a votare conta sempre di meno, e l'esistenza di leggi elettorali abnorme. Lo è stato il Porcellum, ma lo è a maggior ragione il Resatellum che prevede non solo l'obbligo di voto congiunto, se un elettore è all'ardire di disgiungere il voto al candidato nei collegioni nominale e alla lista o coalizione, quel voto è nullo, ma prevede le liste bloccate come le prevedeva il Porcellum, come l'hanno preveduto tutte le leggi elettorali dal 1993 in poi. E quindi gli elettori non scelgono i parlamentari, non scelgono i loro rappresentanti perché questi sono imposti dall'alto, dalla volontà del leader o del gruppo ristretto che dirige il partito. Nel primo testo del circolato del disegno di legge costituzionale addirittura, l'ho forse già detto, si prevedeva una scheda unica. Addirittura si poteva arrivare a pensare che la scheda unica dovesse valere per l'elezione del Presidente, della Camera e del Senato. Un buon modo di rispettare la sovranità popolare. è come pagare tre e prendere uno, perché prendi il Presidente del Consiglio dell'Ettore del Popolo, questa è la verità. Poi è stata stabilita la contestualità, ma c'è una congiunzione del voto, come ho già detto, tra Presidente del Consiglio e coalizione o liste. Ma soprattutto la tesi per cui sarebbe garantita una maggiore partecipazione è clamorosamente smentita dai dati. Allora prendiamo i dati delle elezioni che si sono svolte tra il 1996 e il 2013, quando vi è stata una sorta di bipolarismo, secondo me molto anomalo, molto muscolare, ma vi è stata stata una sorta di bipolarismo. E quindi si può dire che allora qualcuno teorizzava che già di fatto il Presidente del Consiglio fosse eletto dal popolo, perché il leader della coalizione che vinceva, che pigliava più seggi, veniva nominato Presidente del Consiglio. Ahimè, poi è accaduto più di una volta che fosse sostituito nel corso della legislatura e che il Presidente della Repubblica scegliesse un'altra persona o addirittura vi fosse un cambiamento della maggioranza. Bene, in quella fase comunque la partecipazione al voto è calata. Ma ancora più clamoroso è il dato delle elezioni comunali e regionali, le quali sono per definizione incentrate sull'elezione del sindaco e del Presidente della Regione. Quello è il punto, l'aspetto come dire fondamentale delle elezioni comunali e regionali. Ebbene, andiamo a vedere i risultati del 2023. Nei maggiori comuni nei quali si è andata al ballottaggio, quasi sempre nel 90% di casa, ha partecipato al ballottaggio meno del 50% degli elettori. Ancora più clamoroso è il dato delle regioni. È stato veramente scalpore il voto nel Lazio, partecipazione poco superiore dal 37%, ma nella grande e ricca Lombardia ha partecipato il 41,7%. E poi anche nel Molise, nel Friuli ha partecipato meno del 50%. Ha partecipato un po' di più del 50% solo nella provincia di Trento, con un calo però di 7 punti percentuali. E qui paradossalmente, se volessi divertirmi un po', dovrei dire che la partecipazione invece è stata più alta, molto più alta, nella provincia di Bolzano, 73% dove è calata. Ebbene, la provincia di Bolzano è l'unica, insieme alla regione Valle d'Aosta, nella quale il Presidente non è eletto dal popolo, ma è eletto dal Consiglio provinciale. Questo è curioso, forse dovrebbero rifletterci un po' i sostenitori dell'elezione popolare del Presidente del Consiglio. E qui colgo l'occasione per fare una rapida riflessione su questa proposta abnorme che è stata avanzata, soprattutto dall'Italia Viva, che ha presentato un disegno di legge addirittura ai primi di agosto. Ha battuto sul tempo il governo che propone sostanzialmente il cosiddetto sindaco d'Italia. Leopoldo Elia la definiva una proposta fuorviante perché aveva l'ardire di appiattire, di paragonare ruoli che sono completamente diversi. Il sindaco non si occupa di politica interna e politica estera, non si occupa di politica economica e di finanza, non si occupa di politica sociale generale e soprattutto non può in nessun modo pregiudicare o comunque intervenire sui diritti fondamentali dei cittadini, cosa che un Presidente del Consiglio può fare. Ma vi è una differenza anche strutturale. Perché? Perché nei comuni e nelle regioni voi non avete tre organi, ne avete solo due. Il Presidente della Regione e il Sindaco sono anche rappresentanti dell'ente. Non c'è il Presidente della Repubblica, un organo equivalente al Presidente della Repubblica. Quindi se si volesse trapiantare fedelmente il modello del sindaco si dovrebbe addirittura abolire il Presidente della Repubblica e stabilire che le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio eletto dal popolo. Naturalmente a tanto non arrivano, ma voi capite che c'è una discrasia evidente tra queste cose. Ma dirò di più, prendiamo in esame soprattutto la forma di governo regionale, perché è quella più politica. La Regione fa leggi, ha un indirizzo politico che può anche discostarsi da quello del governo, nelle materie di sua competenza ovviamente. Cosa è avvenuto di fatto? Che le regioni ordinarie hanno avuto un funzionamento di tipo presidenzialista, in senso degenerativo della forma di governo presidenza, perché c'è stata una crisi verticale delle assemblee elettive. Questa è la verità, che come il Parlamento nazionale contano sempre di meno. Aggiungo che vi è stata il verificarsi di una sorta di instabilità istituzionale. Siccome la Costituzione prevede che qualsiasi ragione che determina il venermeno del Presidente della Regione ha come conseguenza lo scioglimento automatico del Consiglio regionale, allora sapete quante volte si è verificato lo scioglimento automatico anticipato del Consiglio regionale dopo il 2000 in ben 13 casi che non sono tanto pochi. Su 60 legislature, un quinto delle consigliature anzi per dire meglio. E quasi sempre questo scioglimento è derivato dal fatto che il Presidente della Regione si era dimesso perché aveva questioni giudiziarie. Era sottoposto a un'inchiesta giudiziaria nella grande maggioranza dei casi. Questa era la Regione più ricorrente. Aggiungo anche che non depone a favore di questa ipotesi di trapianto del modello comunale o regionale, che poi è la stessa cosa, grosso modo, a livello nazionale, anche la bulimia di potere, così la definisco, di cui danno prova i Presidenti delle Regioni. Di qualsiasi parte politica, ahimè, questo va sottolineato. Non si accontentano di aver fatto due mandati. Nel caso di Zaia già siamo al terzo mandato. C'è qualcuno che ne ha fatti quattro perché la legge del 2005 che ha posto il limite del doppio mandato è entrata in vigore quando magari già avevano fatto il primo mandato e quindi non l'hanno considerata. Poi hanno sostenuto un'interpretazione abnorme secondo cui non bastava la legge statale. bisogna che il limite fosse ricepito nella legge elettorale regionale e quindi finché non c'è la legge elettorale regionale il Presidente delle Regioni potrebbe continuare a essere rieletto. e poi sono arrivati a dire Federica, che è il Presidente della Stato-Regioni, la conferenza Stato-Regioni, anzi delle Regioni, la conferenza delle Regioni, è arrivato a sostenere che i mandati devono essere almeno tre, anche consecutivi. E qui sono rimasto veramente sterrefatto quando ho letto un'intervista dell'esimio del Professor Sabino Cassese il quale è arrivato a invocare la libera volontà degli elettori, del corpo elettorale. Ma è questo il concetto di democrazia che ha Cassese, che quindi gli elettori potrebbero anche leggere a vita il titolare del potere esecutivo. Questo contrasta proprio con la concezione di fondo della democrazia e con quello che è avvenuto in tutti gli Stati democratici. l'ho già detto prima, che hanno posto dei limiti severi, seri, alla rieleggibilità. Ma voglio arrivare alla conclusione. La conclusione è che siamo in presenza di un attacco frontale alla Costituzione. Questo attacco, un tentativo di svuotamento della Costituzione, questo deriva da uno scambio che io definisco scellerato tra l'autonomia differenziata, cara alla Lega, e il premierato elettivo, caro a Fratelli d'Italia. Qualcuno potrebbe dire che hanno poco in comune, anzi che sembrano andare in direzioni opposte. Rafforzamento dei poteri regionali del Presidente delle regioni da un lato, rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio a livello di governo nazionale dall'altro. In realtà, cosa hanno in comune queste due proposte? Lo sconvolgimento degli equilibri costituzionali. Da un lato lo sconvolgimento dell'equilibrio fra i territori e fra i cittadini delle diverse regioni. Perché si avrebbe una crescita enorme delle diseguaglianze fra territori e cittadini. Dall'altro lato, sconvolgimento dell'equilibrio fra i poteri dello Stato e tra il potere e il potere esecutivo, fondamentalmente, e il popolo che sarebbe chiamato a investire ogni cinque anni, a plebiscitare ogni cinque anni una persona e poi escluso sostanzialmente dalla possibilità di contare politicamente, di farsi valere politicamente, anche perché i partiti a cosa si ridurrebbero sempre di più, a dei comitati elettorali che servono a investire una persona e a garantirvi il sostegno nel corso della legislatura, a parte le divisioni interne alla maggioranza di cui ho parlato prima. E quindi, in definitiva, in ballo c'è né più né meno che la democrazia costituzionale. Quella concezione della democrazia che vede la Costituzione come un limite al potere, a ogni potere. Questo è un elemento su cui ha insistito molto una grandissima costituzionalista che è mancata l'anno scorso. Lorenza Carlassari, che è stata ricordata poco tempo fa a Ferrara, era uno dei suoi, come dire, cavalli di battaglia su cui insisteva continuamente. Costituzione come limite del potere. Il pluralismo, la garanzia del pluralismo e quindi anche del confronto e degli istituti di mediazione sia politica ai partiti sia parlamentare la rappresentanza e infine l'effettiva partecipazione popolare, che non sia una delega data in bianco a una persona, ma sia invece la possibilità effettiva di scegliere i parlamentari. Perché questi che insistono tanto sulla sovranità popolare non propongono una riforma della legge elettorale che abolisca le liste bloccate. Mi pare che tutto questo sia dimostrazione del fatto che in realtà non gli interessa veramente la libertà degli elettori. La libertà deve sorvire, il voto deve sorvire soltanto a plebiscitare un uomo o una donna al comando. Grazie professore, questa approfondita relazione dei prof. Volpi ha davvero scandagliato tutte le trappole insite nei meccanismi di questa mastodondica deforma costituzionale. A parte il solito e vergognoso mantra della governabilità di cui abbiamo già parlato, io ragionerei anche su altri aspetti ideologici della questione. Questa riforma avrebbe l'intento, tra virgolette, di legare la figura del Premier alla volontà espressa dell'elettorato, o meglio, di una parte di esso. Quindi ideologicamente esprime l'idea, secondo me, che è solo la scelta dell'elettorato legittimi il Premier e il suo operato, e non anche i valori costituzionali, non l'interpretazione della contingenza politica da parte del Presidente della Repubblica. Dunque, da un punto di vista ideologico costituzionale, questa deforma vuole cancellare una componente sostanziale, a mio avviso, del pensiero e della volontà dei padri costituenti, e quindi delle radici storiche della Costituzione stessa. Il richiamo ai principi di Lorenza Carlassare è stato veramente qualcosa di esplicativo e di toccante, secondo me, da questo punto di vista. E dal punto di vista politico avrebbe un peso in mane questa riforma anche sulle future generazioni. Un Premier svingolato totalmente dai meccanismi di controllo e di bilanciamento del Presidente della Repubblica, del Parlamento, avrebbe il potere di compiere scelte politiche che avranno un forte impatto su chi vivrà nel Paese in futuro. I diritti del lavoro, la sanità pubblica, l'istruzione, ma anche l'ambiente. Pensate che il decreto di riordino della normativa ambientale, attualmente al vaglio del Governo, rischia di spazzare via anni di lotte ambientaliste. È un Premier senza controllo, potrebbe essere fonte di documento ingente, considerata l'emergenza ambientale ne presente, per fare un esempio. Nelle audizioni fiorfiori di costituzionalisti hanno portato all'attenzione della Meloni e della Casellati, le anomalie e i pericoli che il Professore Volpi ha esposto approfonditamente questa sera, ma loro continuano a tirare dritto senza sentire ragioni. Io in conclusione penso che comunque bisogna prendere atto che c'è un disegno mondiale, nazionale di soppressione della democrazia che in Italia sta per prendere forma attraverso, come prima ha annunciato il Professore, premierato, autonomia differenziato, campo in cui la maggioranza tira dritto non portando in discussione la legge di iniziativa popolare del CDC, ad oggi ufficialmente DDL664, supportato da 106 mila firme degli italiani, violando l'articolo 74, del regolamento del Senato e approvando il DDL Calderoli senza la definizione e l'approvazione dei LEP, violando i programmi fatti alla presentazione del DDL. e ancora con la precettazione del diritto di sciopero e poi le leggi elettorali e costituzionali e l'assenzionismo ai massimi storici, quindi sicuramente questa riforma va ad aggiungersi a tanti altri pezzi che davvero, come detto il Professore in precedenza, andrebbero a completare questo puzzle di, questo combinato di svuotamento costituzionale e istituzionale. Io in definitiva pongo un'ultima questione, vedo che al momento non ci sono domande dal pubblico, al nostro professore, al nostro ospite, che riguarda il quesito referendario, su cui probabilmente si andrà a votare nel 2025, perché le previsioni sia da maggioranza che da minoranza è che la legge verrà approvata, non con i due terzi necessari per evitare il referendum costituzionale e dunque nel 2025 si potrà andare a votare per fermare questa riforma. Pare che ci sia al lavoro già un gruppo di politologi e psicologi per determinare il quesito. Quando dobbiamo preoccuparci in merito a un'eventuale tentenziosità di questo referendario? Quali sono le immagini affinché il voto referendario possa essere sempre presentato in maniera populista, in senso di destra populista, in senso molto confusionario? Se magari gli organi di controllo potranno o meno far sentire il proprio peso, in merito a questo e in generale altre osservazioni su quella che potrebbe essere poi la campagna referendaria, perché comunque di questo si parla, insomma ci dobbiamo preparare. Grazie. Rispondo o devo aspettare? Allora rispondo subito. Sì, sì, prego. Questa questione del referendum è fondamentale, perché anche se, come è probabile, alla fine arriveranno i voti di Italia Viva, comunque rimarrebbe lontano il governo dalla maggioranza di due terzi dei componenti di entrambe le assemblee. E quindi se andrà al referendum che sia chiesto da una minoranza parlamentare, da cinque consigli regionali, o da cinquecentomila elettori, sicuramente l'opposizione parlamentare, credo, ovviamente chiederà al referendum. Allora, qui il tentativo sarà quello di semplificare al massimo, è evidente, nella propaganda che verrà fatta. Intanto noto che è stato cambiato il titolo del disegno di legge presentato alle Camere, che insiste su tre aspetti. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio, il rafforzamento della stabilità di governo e l'eliminazione della nomina dei senatori a vita, che può essere gradita a una parte dei corpi elettorali, quella magari meno riflessiva, che ragiona più con la pancia che con la testa. E nella propaganda che già viene fatta, l'abbiamo visto, il Presidente del Consiglio, Meloni, di fronte alle foto dei precedenti Presidenti del Consiglio, che tipo di propaganda ha fatto? Volete essere voi a decidere, a scegliere il Presidente del Consiglio, o devono essere i partiti? Il che è detto da una politica che fin da quando era ragazza non ha fatto altro che fare attività politica in un partito politico. E il leader del più forte partito politico in questo momento pare anche abbastanza ridicolo, ma è una propaganda tipicamente populistica, che è evidente. E questa va contrastata. In che modo va contrastata? Io credo che noi dobbiamo a nostra volta porre domande molto concrete agli elettori. E le domande sono volete che sia ridotto al lumicino il ruolo del Presidente della Repubblica? Volete che il Parlamento non conti assolutamente nulla? Volete che i parlamentari non rendano conto di quello che fanno o che non fanno nei vostri confronti e confronti agli elettori? Volete avere la possibilità di votare realmente per i parlamentari? E che sia salvaguardato il pluralismo? Quindi dovremmo anche noi saper articolare il discorso e porre una serie di controquisiti, di contro l'umano, che magari riusciranno a far riflettere una parte del corpo elettorale. Guardate, io mi è capitato giorni fa di incontrare in una sede dell'AMPI una persona che conosco da molto tempo un iscritto all'AMPI che mi ha detto stavolta perdiamo. Poi io ho detto ma no. questo sconfittismo che alberga in certi settori progressisti e della sinistra va assolutamente combattuto, va aspramente combattuto, non è affatto scontato l'esito del referendum di questo tipo. E quindi siamo ancora una volta a difendere la Costituzione, a difendere i principi e i valori fondamentali, l'equilibrio fra i poteri e questa è una partita tutta da giocare e dobbiamo giocarla argomentando ma come ha scritto Massimo Villone il presidente del coordinamento anche quando è necessario impugnando la prova di fronte a affermazioni e argomentazioni superficiali e sbregative noi dobbiamo essere molto decisi e molto netti. Professore, io volevo fare una domanda sulla base un po' delle sollecitazioni che sono venute dalla sua prolusione molto 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 interessante. Io, non lo so, da cittadino mi sento come dire, mi sembra veramente incredibile che un pasticcio del genere possa, cioè mi sembra quasi di vivere in una realtà distopica un pasticcio del genere così assurdo palesemente antidemocratico come si fa a non chiamarli fascisti certe volte veramente incredibile come può essere come come può passare una cosa palesemente assurda perché alla fine il presidente della repubblica come ha detto giustamente lei prima insomma non ha più alcun senso cioè potrebbe tranquillamente andare ai giardinetti e insieme allo stesso Parlamento perché questi con una mossa come dire articolate in un doppio passaggio mandano a casa una certa concezione della presidenza della Repubblica e anche del Parlamento probabilmente anche una vendetta postuma nel senso che il centrodestra è sempre stato investito dalla capacità politica della presidenza della Repubblica da scalfaro in poi diciamo così per cui loro hanno sempre mal digerito questa figura super partes collocata nel punto più alto del sistema istituzionale italiano però in grado anche di esercitare un suo potere politico in certe condizioni probabilmente questa è anche una sorta di vendetta non so lei come la vede è una cosa che sono incuriosito ma il mondo accademico al di là del fatto politico che speriamo che questa battaglia venga vinta come fu per quell'altra contro riforma o scena di Renzi ma come dire nel mondo accademico che risposta dà cioè veramente questo pasticcio è accettato oppure magari c'è solo una minoranza di professori universitari cioè sarei curioso di capire le reazioni di questo pezzo anche importante della società italiana allora il mondo accademico è molto variegato ci sono alcuni che sostengono l'ipotesi del premierato elettivo certo hanno una qualche difficoltà secondo me e anzi io devo dire che sono rimasto abbastanza sconcertato dal fatto che a quanto pare alla stesura di questo disegno di legge ha partecipato un costituzionalista Francesco Saverio Marini che insegna Tor Bergata e come dire non si sia reso conto delle anomalie che vi sono ho letto una sua intervista gli è stato chiesto ma insomma il fatto che non è previsto un limite alla religibilità né una maggioranza e questo è prematuro si farà con la legge elettorale ma vi rendete conto dell'enormità di questa affermazione nel momento in cui tu stabilisci le elezioni popolari che sia il capo dello Stato o il capo del governo sei tenuto a stabilire nella Costituzione con quale maggioranza con quale modalità e limiti alla rieleggibilità se no sei fuori dalla democrazia e purtroppo avremo sicuramente costituzionalisti che come ai tempi del della riforma Renzi ma anche prima la riforma Berlusconi che la sosterranno e che talvolta si fregiano del titolo di riformisti in alternativa ai conservatori che saremmo noi in realtà loro sono contro riformisti i riformatori sono quelli come me che vogliono migliorare la rappresentanza restituire i poteri al Parlamento riformare i partiti politici ad esempio attuando l'articolo 49 della Costituzione sul metodo democratico riformare la legge elettorale alla fin fine noi proponiamo più riforme di quelle che propongono loro questa è la verità e vorrei anche dire che però mi ha confortato la reazione di alcuni costituzionalisti di particolare prestigio due ne ho citati prima Giuliano Amato e Enzo Kelly ma lo stesso Michele Ainis è intervenuto molto nettamente non parliamo di Gaetano Azzariti Gustavo Zagrebelski e altri che hanno preso apertamente posizione contro questo pasticcio ha usato Mario Monaco proprio il termine giusto è un grande pasticcio e il guaglio è che è un pasticcio però pericoloso e quindi probabilmente non funzionerà assolutamente avranno dei problemi anche qualora riuscissero a dare un'attuazione ma comunque il colpo dato alla costituzione e alla politica sarebbe tremendo e quindi bisogna impedire che venga trovato dal popolo umile ci sono domande dal pubblico o ne vuoi fare un'altra tu o un'altra questione no non ci sono domande dal pubblico non vedo domande e per quanto mi riguarda diciamo che penso che abbiamo veramente affrontato tutti gli aspetti della della questione in maniera approfondita e quindi va benissimo così penso che in poco tempo abbiamo veramente condensato tanti tanti aspetti non solo della di forma ma dello Stato di salute della democrazia italiana in generale e di quella che potrebbe essere nel prossimo futuro grazie grazie va bene quindi credo che dopo questa bella iniziativa di approfondimento è necessaria e invito tutti i nostri ascoltatori a condividerla anche sui canali a condividerla anche sulle pagine social perché è importante che fuoriusciamo un po' da questa logica informativa fatta solo di litigare in televisione noi invece proponiamo un'informazione credo precisa puntuale ricca di contenuti e quindi credo che le condivisioni siano importanti ringraziamo il professor Mauro Volpi umide da il fabbricatore e vi come dire diamo l'appuntamento alle prossime iniziative di Punto Critico Blog grazie a tutti arrivederci presto buona serata a posto si tutto ok dai direi che ce la siamo cavata egregiamente meglio contenere uno perché come vuole vorremmeno